Non tutte le interviste sono uguali, ce ne sono alcune che aspetti più di altre e devo dirvi ragazzi che da quando è successo il casino che avete combinato è un po' che vi aspettavo qua, ci sono i maneschi in questa sera Ciao, ciao E Vittoria dov'è intanto? Perché ci sono tutti tranne Vittoria Sì, sta un po' male, non è riuscito a venire Portatele ovviamente il nostro abbraccio Assolutamente No, allora dovete sapere che noi che lavoriamo nell'ambiente e che non facciamo i musicisti come voi abbiamo parlato di voi continuamente negli ultimi mesi perché quello che è successo a voi non è mai successo e quindi è semplicemente meraviglioso perché apre una possibilità che nessuno nemmeno pensava parlo proprio di industria discografica e però è sempre stato un discorso un po' tra di noi e invece a me interessa capire da voi cioè questa sensazione di qualcosa di più unico che raro veramente e per ora di unico poi auguriamoci che possano esserci dieci band, dieci artisti che facciano una cosa simile però che non è mai successa ma voi come ve la siete vissuta o in parte metabolizzata questa cosa qua? Alla grande, nel senso sicuramente c'è arrivato questo treno gigante addosso quindi quello che cerchiamo di fare noi è sicuramente cogliere tutto in maniera spontanea e di divertirci di base forse ancora, secondo me ancora non abbiamo metabolizzato per tutte le cose che ci sono successe e ci stanno succedendo ancora ci metteremo magari un po' per realizzare tutto quanto però noi cerchiamo adesso di vivercela veramente al massimo Dico cose banali, da fan delle classifiche per esempio quando ho iniziato a vedervi nella Global era una roba che condividevo cioè da eccitazione o guarda i maneskin dove sono a voi che effetto fa? anche veramente banalmente quando si sono iniziati a vedere quegli screen che poi ci siamo abituati perché siete sempre lì però agli inizi no? Ma io la cosa che ho pensato io è allora si può fare cioè non è vero che non si può fare che tra quello che ti dicono sempre invece si può fare ma c'era prima stata dentro di voi perché poi uno dice no io ci ho sempre creduto si dice così e va bene perché sicuramente ci avete sempre creduto poi tra crederci sempre e stare dove abitano Bieber, Sheeran, Post Malone, Drake non è neanche facile crederci perché sembra talmente adesso sarà più facile per gli altri però all'inizio è talmente lontano perché non è mai successo a nessuno certo certo che è boh infatti ancora la domanda da ribalizzare infatti pochi fatti diciamo hanno demolito tante parole possiamo dire in questo modo però ecco noi semplicemente ce la stiamo vivendo come una cosa cioè la stiamo anche noi cercando di normalizzare un pochino non so come dire anche perché secondo me è tutta una conseguenza di un qualcosa che comunque nasce da un motore principale quindi noi semplicemente ce la viviamo sempre con la stessa passione con la stessa energia ovviamente rendendoci conto di quello che comunque un pochino accade magari non del tutto come appena detto Thomas però di base non è che ci montiamo la testa adesso perché capito semplicemente ce la viviamo comunque bene immagino che a casa siate stati poco perché vi seguo sui social le vedo che insomma siete dentro un circo più che un tour e questo è anche molto figo poi insomma alla vostra età insieme una band ma invece penso a casa come famiglie no? che non è che fanno proprio il vostro mestiere quindi magari uno va a dire oh siamo primi in global però uno dice no ma che voglio no esatto esatto quanto hanno quanto hanno capito secondo voi dell'evento eccezionale che è capitato ai Maneskin secondo me hanno capito anche più di noi in realtà perché hanno vissuto più musica di noi più generazioni di musica di noi hanno visto quanto è sempre sembrato impossibile una cosa del genere poi tutti i nostri genitori si sono molto penso schillati a guardare classifiche spazi che belli vorrei vederli giuro vorrei vederli in giro per per l'Europa si incontrano pubblici diversi no? con reazioni diverse a canzoni diverse cioè diventa molto interessante perché poi inizia anche a fare musica in un altro modo no? perché apri assolutamente la testa a tutto quello che sensazione avete? qual è la cosa dei Maneskin che piace più o meno sempre ovunque andate? allora diciamo una cosa che io ho notato molto appunto parlando di pubblici pubblici no? diversi e il fatto che nonostante tipo suonassimo in Russia o in Polonia o in Repubblica Ceca o comunque magari in paesi dove magari l'italiano non si parla per imparare le nostre canzoni hanno anche imparato l'italiano ce l'hanno detto in tanti e questa è una cosa che almeno a noi a noi ha colpito davvero tantissimo quindi chissà magari proprio la lingua e proprio l'italiano in sé ha iniziato ad essere apprezzato anche da da altri paesi non in generale ho visto un po' di video che vi riguardano di persone in fila che vi aspettavano che cantavano le canzoni e in effetti è vero questa cosa dell'italiano colpisce noi fra poco ed è il motivo per il quale oggi i Mane Skin sono venuti a trovarci sentiremo il singolo nuovo parleremo del singolo nuovo quindi rimanete qui a 105 mi casa come ogni sera a quest'ora su Radio 105 c'è 105 mi casa con Max Brigante stasera sono venuti a trovarci i Mane Skin che sono tecnicamente in promozione però è cambiato anche il concetto di promozione adesso ci stavo pensando perché finché fai la promo in Italia vabbè ci metti due tre giorni vado a Milano a fare un po' di interviste poi magari facciamo un passaggio a Roma qualche TG vabbè c'è uno dice vabbè dai ho fatto la promo sono passati due tre giorni e adesso la promo è cambiata la promo ci vuole un po' e com'è questo approccio a una promo molto più lunga fatta in più lingue con insomma com'è ragazzi bisogna cercare di trovare diciamo soltanto le attività che ti rispecchiano in qualche modo perché poi di fare veramente tutto quello che hai richiesto non c'è proprio il tempo materiale noi siamo umani come tutti gli altri le nostre giornate durano 24 ore e poi a parte quello in realtà quello è sono interviste tv eventi poi ovviamente ci rimbambiamo con le lingue ogni tanto esatto sbagliamo sbucciamo italiano inglese spagnolo anche se siete forti e anche fortunati perché voi con l'inglese andate bene e quindi o meglio qualcuno di voi va particolarmente bene esattamente quindi diciamo che la si porta a casa Damiano parlavi di interviste eventi e anche come posso dire show televisivi dove si performa live vi abbiamo visto in questi mesi e ho sempre la sensazione che lì proprio in quella cosa in questo momento siate imbattibili cioè in questo momento a fare quel tipo di promo anche farsi vedere in quel modo siate troppo forti grazie grazie forse ha fatto anche un po' parte della strategia forse anche perché se ci pensiamo Sanremo è un'esibizione no? sì sì ma diciamo che noi come ci piace tantissimo suonare dal vivo la cosa che ci interessa di più sicuramente è la musica è fare la performance live quindi se anche la promozione richiede di suonare dal vivo sicuramente è la cosa che più ci interessa e più ci piace poi è anche importante ovviamente fare varie interviste farci conoscere parlando e raccontando la propria musica però alla fine parte tutto dalla musica quindi per noi è tutto basato su quello di base però grazie le complimenti anche il grande lavoro di chi lavora vicino a voi credo sia Nick che lavori ai vostri outfit forse non solo lui vedo veramente un lavoro meraviglioso ma ragazzi poi arriva il singolo nuovo che adesso è arrivato nelle radio ma nella vostra testa secondo me arriva da un bel po' di tempo perché a un certo punto dice ok adesso stiamo qua sul tetto del mondo e dobbiamo presentarci con nuova musica se sentita cioè avete sentito la pressione di un brano che non è che lo ascoltavano in tanti lo avrebbero ascoltato in mezzo mondo praticamente diciamo che quando si moltiplica l'attenzione nei nostri confronti noi più che la pressione in realtà questo ci gasa si moltiplica l'energia ci dà il vero motivo per cui puoi continuare a lavorare tanto anche quando magari c'è la fatica un stanco e tutto quanto ti dà anche quell'energia in più sapere che poi il pezzo poi questo pezzo in particolare è la prima nuova musica dall'Eurovision quindi diciamo che c'era molta molta euforia intorno a questo lancio certo c'era la collaborazione con Iggy Pop diciamo la versione di quel brano con Iggy Pop però poi di questo è veramente il primo inedito ma è un brano ragazzi che avevate già o è nato anche a livello di composizione è nato dopo e come nascono i vostri brani da session in sala prove o uno arriva col brano dipende 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 è capitato anche che qualcuno arrivasse col brano fatto tra virgolette poi insomma viene sempre modificato rivisto e tutto quanto però no in questo caso che poi è quello più comune per noi è tutti e quattro in sala si butta giù si butta fuori tutto quello che abbiamo in mente quando c'è qualcosa che ci fa fare oh attenzione eccola eccola qua è lei questo gira giusto questo gira giusto se lo senti mamma mia è anche un cioè potrebbe essere anche un bello slogan no cioè è un pezzo è una parola italiana ma è war wild comunque ed è partita da lì l'idea del testo da quella parola in realtà in realtà semplicemente mi suonava oh mamma mia mamma mia poi tutto il resto è venuto un po' dalla situazione che stavamo vivendo avevamo tantissimi occhi addosso intorno tantissima gente ci guardava con questo sguardo molto serio quindi noi abbiamo deciso invece di farla divertente perché ci piace essere controcorrente dai sentiamola sentiamola che poi è il motivo insomma per il quale oggi siete venuti a trovarmi i Mane Skin su 105 sia la canzone che i ragazzi sono tutti qua tranne Vittoria mamma mia il nuovo singolo dei Mane Skin molto rock e vado sul tema perché ho letto delle recensioni meravigliose che arrivano da più parti del mondo dove qualcuno dove una serie di giornalisti comunque attribuiscono un qualcosa di meraviglioso a voi un po' che vi vedono come gli alfieri di un possibile ritorno del genere che insomma è una figata pazzesca è un tema ricorrente nelle interviste che fate questo ce lo chiedono spesso ma noi rispondiamo che non ci accogliamo la responsabilità però siamo contenti del fatto che comunque tante persone sicuramente possono scoprire questo genere soprattutto ragazzi della nostra età magari che hanno la possibilità di riavere su Spotify o quel che è insomma canzoni di questo stile questo stampo che non fa mai male di comprare una chitarra al posto di un pc penso già solo quello quanti ragazzi o ragazze avranno comprato chitarre e bassi tantissimi tanti sempre messaggi che ci fanno gasare di brutto ovviamente perché vedendo da quella musica no figo figo dai un po' come quando è esploso il rap che si vendevano tanti giradischi no è un po' la stessa cosa invece qual è la domanda in giro per il mondo anche che proprio non sopportate cioè non lo so sulle origini del nome chiedono sempre per esempio io non sopporto le domande sul cibo italiano è vero è proprio stereotipo totale che ti devo rispondere sì da me si mangia meglio che da te basta lo sappiamo già perché secondo me quelle sulla mafia rimanendo sullo stereotipo non la fanno per esatto e quindi il cibo ok e beh no ci sta ci sta ragazzi il cibo il clima il clima invece alcune domande sono un po' direttenti perché sono tipo ma come vi siete sentiti quando avete vinto l'Eurovision male malissimo avevo la febbre però vabbè sì sono sempre quelle domande che alla fine ci siamo abituati esatto le domande di rito dai bene bene sono sempre piacere quali sono i prossimi passi allora intanto alcune zone del mondo hanno aperto i live quindi immagino che siate molto orientati da quella parte lì e poi suppongo che ci sia un un lavoro per tentare di solidificare sempre di più si dice solidificare boh sì il successo anche negli altri paesi per cui boh avete un anno due davanti dove a casa ci si sta poco credo molto poco quasi mai promo tour bisogna abbattere il ferro finché è caldo sicuramente e tenendo il caldo esatto siamo focus su questo e in tutto questo riuscite a scrivere cioè avete una serie di pezzi nuovi tra diciamo uno spostamento e l'altro le cose se abbiamo qualche giorno qualche ora libera avete visto qualche studio figo in giro per il mondo allora diciamo che di solito facciamo tappa a Roma e scriviamo là solitamente perché ci piace staccare e stare a casa nostra però adesso sperimentiamo un po' la cosa di scrivere in giro per i vari posti dove andremo sia perché sicuramente dà tanta influenza al mio parere e poi perché se no non ci sarebbe veramente tempo quindi per forza siamo costretti adesso a iniziare a sperimentare in giro magari bene bene oh ragazzi grazie di essere passati oggi spero che qualcuno di bravo abbia voglia di scrivere un bel libro o fare un bel film su di voi o comunque su quello che siete riusciti a fare accadere e mi auguro che sia tipo una strada che poi possano seguire più artisti possibili bocca al lupo per tutto grazie ciao ragazzi ciao ciao ciao